ciao a tutti pipistrelle e pipistrelle bentornati sul mio canale benvenuti se siete nuovi mi avevate chiesto un'idea per un look goth ma semplice da usare al lavoro a scuola o nelle occasioni formali oggi ve ne mostro tre veloci da realizzare e che richiedono solamente massimo tre ombretti e una matita nera ti chiedo scusa per l'inquadratura non ho calcolato bene lo spazio quindi spesso finisco fuori dal bordo ma spero si capisca lo stesso cosa faccio per questo primo look vi serve un ombretto nero uno bianco o shimmer o opaco ed una matita nera ho disegnato una sorta di eyeliner con l'ombretto quindi in realtà potreste anche farlo direttamente con l'eyeliner ed ho portato il nero anche nella piega e sotto la rima inferiore lasciando la linea aperta nell'angolo interno nello spazio restante ho messo il colore chiaro come una sorta di cut crease mentre nell'occhio ho usato la matita nera il secondo look è uno smoky eyes che può essere fatto con qualsiasi colore più il nero o comunque con lo stesso colore più scuro ho scelto un marrone perché ultimamente questo accostamento mi piace molto basta mettere il marrone su tutta la palpebra nella piega e sotto la rima inferiore si intensifica poi il tutto con un ombretto nero o comunque più scuro e poi vediamo il video Grazie a tutti. All'interno dell'occhio ho messo la matita nera con la quale ho anche disegnato una punta nell'angolo interno. Il terzo look è un halo eye grigio e nero. Ho applicato il grigio nell'angolo esterno ed interno e sotto la rima inferiore. L'ho intensificato col nero ed ho inserito nello spazio vuoto centrale uno scimmere argento. All'interno dell'occhio ho messo. All'interno dell'occhio ho messo. Con la matita ho colorato la rima interna e disegnato questo specie di spazio vuoto nell'angolo interno. All'interno dell'occhio ho messo. Spero che questo video vi sia stato utile. Lasciatemi un commento qua sotto, lasciatemi un like, iscrivetevi e spero di vedervi in un prossimo video. Un bacione. Ciao ciao.